Ora ci stiamo per avventurare in una giungla selvaggia, devo parlare un po' su voce perché sennò loro si spaventano. Ci stiamo avventurando in una giungla misteriosa, dovrebbe arrivare un momento all'altro un canculo, un cazzo vari. Ora vi spiego cosa sono i canculi. Sono i canguri che hanno il culone, capito? Perché a forza di mangiare avranno un cederone perché lì dentro c'è un po' di roba lì, è sapere qualcosa. C'è un po' di roba lì, è un po' di roba lì. Ciao! 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 Ciao ciao! 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 That's kind... vediamo se qui ci sono i coccodrilli sentireste voi con me presto io non mi sono levato da andare ora mi si arrugginisce ora mi sono levato da andare Siamo a Polblad e si sta montando la barriera corallina e questa è la barca dove andremo Quale? Questa qua! Questa! Buongiorno a tutti, è una parte del nostro quattro, è una parte del nostro quattro, e vi voglio indicare a tutti... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.